Io non la definirei come partita del riscatto perché comunque sono passate quattro giornate di campionato. È normale che questo per noi doveva è l'anno zero perché ci sono stati tantissimi cambiamenti dall'allenatore, abbiamo perso alcuni giocatori, sono arrivati degli altri. Non vedo tutto questo allarmismo, ancora dobbiamo smaltire bene i carichi di lavoro di ritiro, alcuni si stanno integrando bene perché venivano da altri campionati, quindi secondo me ci vuole un attimino di pazienza per vedere il reale potenziale di questa squadra. Poi sicuramente la Champions League è una competizione a sé, quindi non fa storia col campionato, non servono motivazioni per preparare le partite, non servono, penso che la Champions League si presenti da sola, quindi sicuramente il come affrontare le partite verrà fuori da dentro di ognuno di noi. Per il resto ci andremo a giocare queste partite con la consapevolezza che siamo una squadra forte che può mettere in difficoltà moltissime squadre e qualsiasi cosa accada sempre testa alta e si guarda avanti, poi il resto verrà da solo. Per rispondere alla tua domanda io devo semplicemente fare quello che ho fatto in questa stagione, essere me stesso, quando vengo chiamato in causa do il massimo, quando entro a Casteldebole do il massimo, cerco di essere da esempio, cerco di influenzare più compagni possibili per un certo tipo di comportamento e poi fuori dal campo cerco di amalgamare il più possibile il gruppo, ma non perché mi venga detto, ma perché a me fa piacere farlo. Secondo me un giocatore dopo una certa età deve comunque pensare un po' di meno a se stesso e un po' di più agli altri, proprio perché ha un'esperienza dentro molto importante, quindi semplicemente essere il Lolo di sempre. Mister, buon pomeriggio. Utilizzando una scala da 1 a 100, al netto di quello che lei chiaramente ha già detto, ovvero con un percorso appena iniziato, quanto è il Bologna di Vincenzo Italiano? Quanto è il Bologna che lei si era immaginato quando ha accettato questa piazza? Grazie. Ma io lo dico anche ai ragazzi, ci stiamo esprimendo a sprazzi, andiamo a folate, momenti dove riusciamo a proporre tutto quello che cerchiamo di fare in allenamento, altri dove invece ancora vuol dire che dobbiamo lavorare. Dobbiamo lavorare, dobbiamo metterci più attenzione, più applicazione in determinati momenti della partita, perché ripeto, Bologna ha due facce, in casa e fuori, Bologna che qui non permette all'avversario in casa intendo di ripartire, invece fuori troppi errori. troppi errori, quindi credo che dopo due mesi nessuna squadra, un allenatore vuole essere velocissimo nel entrare nella testa dei propri giocatori, nel cercare di dare un'identità forte. penso che due mesi sono pochi, poi abbiamo avuto tanti giocatori che non hanno fatto il ritiro per Olimpiadi, europei, sono arrivati in ritardo, qualche infortunio di troppo che non ci voleva. adesso invece pian pianino stiamo iniziando ad essere in tanti, il gruppo squadra spesso è presente all'allenamento, ci vorrà del tempo per essere, non dico al 100%, come dici te, da una scala da 1 a 100, ma essere bravi a interpretare bene tutti i momenti della partita. ripeto, dobbiamo cercare di farlo come abbiamo fatto in queste due in casa, iniziando da domani, ma anche lontani dal Dallara, perché questa è una squadra che in passato ha dimostrato che non esiste casa e fuori, quando una squadra acquisisce una certa mentalità non fa differenza. Dovunque vai contro chiunque devi proporre il tuo gioco, la tua identità, i tuoi principi e stiamo lavorando per cercare di fare quello. Matteo con Luca. Sì, ciao a tutti. Allora, quello che è successo l'anno scorso e il fatto di vivere quest'anno la Champions League è stata fatta da voi in campo e parlo comunque, coinvolgo anche te Vincenzo e accompagnati dalla gente fuori, cioè questa città è completamente impazzita per quello che è successo e per quello che succederà da domani in poi. Allora, qual è la vostra promessa alla gente e qual è la prima cosa che non deve mancare mai? Da domani in poi e non farete mancare mai. Promesse non se ne fanno, però sicuramente non mancheranno l'atteggiamento, non mancherà il massimo impegno, la voglia di sputare sangue in mezzo al campo come si dice e sicuramente quello che è stato fatto l'anno scorso deve essere solo una fiamma che possa alimentare di più un fuoco che dobbiamo andare ad accendere quest'anno perché quello che è stato fatto l'anno scorso è qualcosa di straordinario, c'è stata una coesione tra tifoseria, squadra, piazza, tutto, però è già passato. Purtroppo piacerebbe anche a me rivivere quei momenti sopra il pullman scoperto in piazza mentre io e Lollo lanciavamo i cori, però sappiamo che è passato e dobbiamo già concentrarci per quello che avverrà quest'anno perché abbiamo lavorato tanto l'anno scorso per arrivare a questa competizione che c'è quest'anno, quindi il qui e ora mi sembra la cosa migliore da fare e quindi sicuramente in campo non mancheranno queste cose qui. Allora Luca, poi Massimo, poi chiudiamo. Da parte nostra sicuramente l'impegno possiamo promettere a quello che è la tifoseria e poi cercare di sicuramente di restituire a quello che sarà un tifo meraviglioso restituirne un atteggiamento, una voglia, un'unione da parte di tutti, lo staff tecnico da chi scende in campo, da chi non scende, da chi è fuori magari anche come me. Quella ha fatto la differenza in queste stagioni e dovrà farla anche quest'anno, quindi impegno e coesione secondo me sono le parole fondamentali. Luca, vuoi dire? No, aggiungo che ho capito cosa vuol vedere in due partite, cosa vuol vedere il pubblico di Bologna. impegno, sudore, sacrificio e siccome la gente è abituata bene vuole vedere giocare bene questa squadra e noi siamo obbligati anche in una competizione così difficile, con squadre così ben attrezzate, di mostrare tutto questo. Ma ripeto, lavoriamo tutti i giorni, lavoriamo veramente in maniera con grande abnegazione per cercare di ottenere questi aspetti qua, che sono aspetti che deve avere qualsiasi squadra di calcio, però siamo anche obbligati che qui a Bologna dobbiamo cercare di farlo in fretta perché è giusto far vedere e mostrare a questa gente questo tipo di calcio. Per il mister, ciao Vincenzo, lo Shakhtar l'hai studiato, l'hai visto, è una squadra molto giovane, media età, 23 anni, una delle più giovani della Champions. Tra l'altro loro hanno vinto bene nell'ultimo fine settimana segnando cinque gol. E poi ti chiedo a livello personale, come è la tua vigilia di questa partita, considerando anche da dove sei partito, da dove è partita la tua carriera di allenatore, come la stai vivendo a livello personale? Abbiamo visto sul Pullman già tornando da Como, ci siamo proiettati a questa partita. Come ho sempre detto, bisogna pensare ad un impegno alla volta, fischiato, tripice fischio finale a Como, subito proiettati è lo Shakhtar. Lo Shakhtar è una squadra che è giovane, come hai detto te. L'ultima partita ha segnato cinque gol, quella prima tre. Cioè è una squadra che ha una pressione offensiva davvero importante, alcuni nazionali di valore. Se non gli metti pressione giocano un calcio di palleggio, di qualità. Quindi dobbiamo cercare di essere, quando non ce l'abbiamo, aggressivi, stando attenti perché l'uno contro uno è troppo importante. E poi quando ce l'abbiamo dobbiamo mettere in difficoltà. È una squadra che si rintana dentro la metà campo, aspetta il tuo errore, cosa che non dobbiamo commettere e dobbiamo fare. Però secondo me per come l'abbiamo preparata possiamo mettere in difficoltà. Quindi è partita aperta, partita che sta tanto a noi per come si svilupperà. Mi auguro che si possa vedere quello che in due allenamenti siamo riusciti a preparare. Ma sono convinto che lo faremo. Per quanto riguarda il mio percorso, dico la verità, mi aiuta tantissimo quello che ho vissuto negli ultimi due anni. Perché sono stati momenti bellissimi. Vivere l'Europa, girare per stadi caldi, squadre che in casa e fuori si trasformano, ambienti che non mollano mai. Questo ci farà capire tantissimo. E mi auguro che quello che ha lasciato a me, mi auguro che lascerà anche a tanti ragazzi che non hanno mai affrontato l'Europa. Perché si accorgeranno di quale sono le mentalità che ci sono in giro in tutti i paesi. Questo è importante e devo dire la verità. Sono emozionato perché anche io a pensare di sentire la musichetta della Champions che ho sempre fatto dal divano, da casa, ho qualche partita vista allo stadio, sarò io lì in campo e sinceramente non vedo l'ora perché è qualcosa di straordinario. E per il resto davvero quei due anni mi hanno aiutato. Mi hanno aiutato ad essere meno emozionato, meno ansioso. So a cosa stiamo andando incontro e quindi è quello che voglio far capire ai ragazzi. In questi due giorni ne abbiamo parlato tanto. Sì, volevo dire questo. Avete parlato dello Shakhtar. Ti chiedo a te Vincenzo un pensiero su una squadra fatta di grandi professionisti, una squadra normale che si preoccupa del campo com'è, dei palloni, di tutto. Qui c'è una squadra che ha dovuto anche abbandonare una partita per un allarme aereo. Ecco, cosa vuol dire? Forse è il bello dello sport mettere sullo stesso piano in realtà anche una squadra che sta giocando in un teatro di guerra. Ecco, questo mi sembra secondario. Ma anche questo aspetto questa mattina abbiamo toccato. Sono ragazzi, è una società che sta vivendo davvero un qualcosa di spiegabile. Tutti ci auguriamo che questo conflitto termini al più presto e ci mettiamo anche nei panni di queste società che sono costrette a girare l'Europa per affrontare una partita di calcio, a non stare vicino ai propri familiari. Quindi conosciamo quali sono le difficoltà. Su questo abbiamo grande rispetto per i nostri avversari. e ripeto, tutti, tutto il mondo si augura che questo che sta accadendo nel loro paese cessi velocemente perché tutto il mondo se lo augura. Grazie. Grazie, grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie.